Va male nella giungla la finale World Cup Così sul grande schermo mostra il Kellogg's Coco Pop Guardate, è il premio! Tanto cioccolato la sveglia tutti dà La squadra della giungla nessuno fermerà Vogliamo tutti quanti il Kellogg's Coco Pop! Una trasformazione fantastica! Certo, Coco Pop's di Kellogg's è scoppi e tanto riso soffiato Che trasforma il latte in sfrizzoso cioccolato Coco Pop's di Kellogg's la parte al cioccolato di una colazione nutriente Bum bum bum!